La risposta c'è in termini di responsabilità, il consumo diciamo sostenibile e poi dobbiamo capire cosa questo vuol dire, è sicuramente un trend attuale, consumatori che vogliono sempre di più prodotti che rispondono alle loro aspettative anche etiche, come questo si coniuga dipende dai casi e noi come industria siamo sempre alla ricerca della soddisfazione di questi bisogni emergenti, sovrapporre dei biomateriali per esempio alla riciclabilità non sempre è facile, quindi ci sono esigenze anche a volte contrastanti fra di loro, meno materiali o meno packaging oppure materiali bio oppure materiali riciclabili, sono tendenze che sono tutte in atto, tutte valide e non sempre tutte convergenti in uniche soluzioni, sicuramente noi come industria siamo attenti e crediamo di poter e dover fare la nostra parte.